E questa è una cosa. L'altra cosa che a questo punto approfitto per dire nel ringraziarvi per avermi segnalato questa cosa che mi piace molto, che però mi dà una possibilità né per fare e né portare avanti quella idea di una città accessibile e che vede nella cultura, nella lettura, nella produzione di iniziative culturali, un grande elemento di una coesione sociale. Noi siamo ormai quasi alla fine della terza guerra mondiale per il Covid in questo Stato. Se è finito o no ancora non lo sappiamo, ma insomma siamo un pezzo avanti. E quindi noi a volte siamo chiamati a mettere in campo tutte le azioni di ripostruzione. Dopo la prima guerra mondiale abbiamo ripostruito le nazioni, dopo la seconda democrazia e dopo la terza, che è questa, noi dobbiamo ripostruire le nazioni. Quindi è una comunità che si viene insieme attraverso la capacità di miscelare diritti e innovazione sociale, c'è una comunità che si accade da tutte le rame. Quindi, ripeto, non ci siamo messi d'accordo un giorno, però se lo avessi dovuto fare sarà tutto oggi.